Ciao, sono Caterina, ho studiato design ad Ascoli nell'anno accademico 2012-13 per il corso di laurea triennale in disegno industriale e ambientale e nell'anno accademico 2015-16 per il corso di laurea magistrale in design. Oggi vivo a Milano e mi occupo di grafica e brand aziendale. Ho vissuto ad Ascoli cinque anni, quindi i ricordi sono davvero tanti, da tutti i corsi, i laboratori, al Maker Faire di Roma, ma non dimentico sicuramente i cinque secondi di panico avuti durante la discussione di tesi della laurea triennale. Sono stati cinque secondi, ma per me lunghissimi, dove ho avuto modo di incrociare lo sguardo di chi mi sosteneva e dei miei insegnanti che mi incoraggiavano. E così è stato un po' come sentirsi a casa ed essere fiera del percorso scelto. Attualmente lavoro come grafica per un'azienda a Milano leader nel settore della ristorazione, con sette punti vendita e due in apertura a Bergamo e Lugano. E mi occupo di tutta quella parte creativa e strategica degli elementi che determinano e identificano il marchio della società. e dai biglietti da visita, la carta intestata, le locandine, i menu e tutti i materiali fruibili dai clienti, ovvero tutto ciò che ruota intorno alla corporate identity, in modo tale che sia l'obiettivo di comunicazione da raggiungere che l'immagine aziendale viaggino sulla stessa linea d'onda. Grazie. 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 Grazie.